Benvenuti alla prima parte della lezione sul ripristino della dimensione verticale con metodica outside-in. Le protesi totali e le grandi riabilitazioni su impianti dobbiamo ricordare sono delle protesi maxillodentali. Sono delle protesi maxillodentali perché si tratta in uno spazio come questo di ricostruire non soltanto i denti mancanti ma anche quelle parti di macellare che eventualmente sono andate perse a causa della perdita dei denti o per altre ragioni. Quando vedo un macellare di questo genere le domande che secondo me ci dobbiamo porre sono le seguenti. Innanzitutto dove devo posizionare i denti in questo spazio protesico? Quanta parte della protesi deve essere costituita da flangia e quanta da denti? Come devono essere posizionati i denti e che dimensione devono avere? Ma soprattutto come posso valutare correttamente la dimensione di questo spazio protesico? Lo spazio protesico deve partire ovviamente da una diagnosi della situazione attuale, quindi sempre in queste situazioni dobbiamo valutare qual è la situazione di partenza del nostro paziente. Poi ci dobbiamo anche domandare se lo spazio protesico attuale è adeguato alla protesi che si andrà a posizionare e quindi io dovrò partire dalla diagnosi per arrivare alla progettazione.